Buon giovedì 30 settembre Gesù raccoglie 70 persone e li invia a due a due a percorrere strade, villaggi, città, abitare temporaneamente case nelle quali poter essere nutriti per poter naturalmente sopravvivere, ma con grande semplicità, senza borse bisacce, con abiti semplici. Ecco, questa è una testimonianza ricca di prospettive e insegnamento per noi oggi, un invito alla sobrietà, un invito anche ad accogliere coloro i quali portano quel messaggio, cogliali e nutrirli perché di fatto stanno facendo un lavoro di raccolta della messe, sono gli operai della mensa del Signore, sono gli operai che annunciano la novità. Ed è giusto che, come ogni altra persona, abbiano il sacro santo diritto del giusto riconoscimento, che significa le risorse necessarie per la vita. Non scandalizziamoci, se coloro i quali portano la testimonianza devono ricevere il giusto stipendio. Molto spesso noi siamo tentati dall'idea che, vista la grande semplicità nell'abbigliamento che il Vangelo ci riporta, queste persone dovrebbero vivere in un pauperismo misero. Non è questo il senso del Vangelo, è un rapporto nuovo che Gesù ci insegna, quello del camminare e del procedere, non soffermarsi più di tanto, ma di fermarsi ogni tanto, e non di abitare più case, ma una alla volta, e poi andare oltre, procedere lungo la strada. E se accade che qualcuno respinge, non ci si indigni, non si aprano polemiche, semplicemente si vada in un'altra casa. E se una città non accoglie il messaggio, anche la polvere di quella città deve essere scorrata dai propri vestiti, immagine simbolica naturalmente, sia relativamente alla polvere sui vestiti, sia per quanto riguarda la città. Se una cultura, una civiltà, respinge quel messaggio, non ostiniamoci a cercare un punto di mediazione, giriamo pagina, andiamo altrove, e scrogliamoci di dosso qualsiasi frammento di quella cultura e di quella civiltà. E naturalmente, nel giorno del giudizio, quella cultura è quella della civiltà. Subiranno un destino triste, così come noi oggi vediamo, nella crisi profonda, ecologica, geopolitica, sanitaria ed economica. È una civiltà, la nostra, opulenta, che ha respinto, di fatto, l'invito alla conversione. e dunque siamo chiamati non a una lotta interna a questa società, ma a un distanziamento che non può mai essere un isolamento, ma significa sostanzialmente un andare altrove. accogliere i segni nascenti di una città accogliente, di una civiltà, di un modello di vita più consono ad accogliere il messaggio. Quindi non è mai un invito all'isolamento individualista, lo stesso procedere dei portatori del messaggio non è mai solitario, è almeno in due, laddove due o più siete riuniti nel mio nome, la io ci sarò. Questo è un punto fondamentale, non c'è nessuna forma di individualismo, è un'apertura fin dall'inizio nei confronti di una relazionalità attraverso la quale noi ci facciamo testimoni e protagonisti della costruzione di un nuovo mondo possibile nel quale ci sia un'autentica possibilità di accogliere la dimensione feconda del messaggio che salva. Buona giornata a tutti.